Omicron viaggia veloce contro l'impennata di contagi. I governi corrono ai ripari in Danimarca per cercare di fermare l'ondata della pandemia. Fino al 17 gennaio chi entra nel paese deve presentare un tampone negativo. Una misura che vale per vaccinati e non vaccinati. Tra turisti e residenti qualcuno si lamenta, molti si adeguano. Le autorità stanno fronteggiando una situazione di emergenza cercando di proteggerci tutti. Le nuove restrizioni contro il covid servono per rallentare i contagi, dice questo danese. Anche se per alcuni può essere fastidioso dover sottostare a queste regole, sicuramente sono utili e funzioneranno. Intanto nel paese di nuovo serrande abbassate per un mese per teatri cinema sale da concerto insieme a parchi divertimenti e musei, dopo che Omicron ha fatto rialzare la curva. Anche qui però, secondo gli ultimi dati, è emerso che rispetto alla Delta questa variante è più contagiosa ma il rischio di ricovero in ospedale è molto più basso. Nel frattempo il numero di nuove infezioni è salito di nuovo sopra la media con un record di 13.550 nuovi casi in 24 ore in una nazione di quasi 6 milioni di persone e almeno 500 casi erano pazienti guariti dal covid.